Carissimi bentornati nel canale di Sweet Italy Adventure Oggi come promesso ed è un prodotto un po' ingombrante Sto parlando del drone vintage che vi avevo promesso di portarvi Vabbè vintage sempre tra le virgolette Sto parlando del Typhoon Q500 4K Allora ragazzi devo spostarlo un pochettino Mi metto qui al suo fianco Dove lo metto? Lo metto qua o lo metto di là? Non lo so, vediamo, facciamo un po' così adesso Mi faccio un po' ombra da solo In questo video cercheremo di capire se un drone con diversi anni alle spalle E con un ingombro che è decisamente differente dagli ingombri ai quali Dagli ingombri Dagli ingombri ai quali siamo abituati oggi Ha ancora senso e eventualmente perché ha senso E niente, andiamo con il video Come avrete capito bene da voi stessi ragazzi Le dimensioni sono veramente imponenti Adesso poi ve lo farò vedere anche magari con la camera dall'alto Il Typhoon Q500 Filma in 4K E viene, non credo che venga venduto nuovo ancora oggi Però si trovano degli ottimi usati E siccome qualcuno mi chiede sempre Ma va bene, ci sono tanti coupon sconto Ci sono tanti droni oggi in vendita Anche compatti Ma se volessi cercare un qualcosa di usato che ancora valga la pena Bene ragazzi Ancora ne vale la pena E se non avete chiaramente problemi di ingombro Adesso ve lo apro, ve lo faccio vedere E vi spiego il perché In questa confezione gigantesca Che in realtà è una vera e propria valigia Dove potrete trasportare il vostro drone Viene conservato il Typhoon Q500 Che vi ricordo essere di questa marca Anche lei cinese La Unique Una marca di cui abbiamo già parlato Molte volte sul canale Vi ho fatto vedere anche uno dei miei droni preferiti Che è il Typhoon H-Pro Di cui vi metto una recensione Qui in alto a destra Se ve la siete persa Recensione molto completa Molto interessante Di un mega drone Un esacottero Perché ha sei eliche Che spero vi piaccia Oggi invece scopriamo assieme Ragazzi mi vado pian pianino Nascondendo da solo Perché così ve lo faccio vedere dall'alto Il Typhoon Q500 Che arriva appunto Arriva o comunque se lo trovate in buone condizioni In questa mega confezione gigante Tutto molto 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 ben protetto Dove qui troveremo le eliche Che andranno messe semplicemente avvitate E sotto di esso Sotto questa protezione in polistirolo Troviamo il drone stesso Che adesso tiro fuori E lo vediamo un pochettino più da vicino Lo metto da una parte E vediamo anche già il radiocomando Che signori e signore È una cosa stupefacente Che ricorda anche un pochettino Più grande Più grande dell'H500 Scusate dell'H Pro Però anche lui integra un radiocomando Con display e applicazione dedicata Nella confezione poi arriveranno Se lo trovate Perché ripeto Questo lo dovrete trovare eventualmente usato Le sue batterie Che sono delle batterie 3S Non sono high voltage Ma sono delle belle batterie imponenti Il suo carica batterie E poi troviamo chiaramente Anche Chiaramente va bene Per modo di dire Ma per chi conosce la Unique Troviamo anche il suo radiocomando Per alcune funzioni particolari Che questi Unique sono in grado di fare Chiudo questa mega scatola Così mi faccio anche rivedere E la mettiamo un attimo da parte Ragazzi guardate che bestiona È un po' come un trolley Da viaggio se vogliamo E andiamo invece all'attenzione Del radiocomando E del drone Ragazzi Eccolo qui Il Q500 È un bel drone Di dimensioni abbastanza importanti Anche se non pesa in realtà Moltissimo Con dei motori brushless Davvero di grandi dimensioni In grado di far volare Questo quadricottero Anche molto velocemente Senza rischiare di avere I motori sotto sforzo Cosa che Effettivamente In alcuni droni Odierni E molto compatti I motori brushless A volte possono anche Un po' soffrire del peso Mentre questo quadricottero Ha dei motori Veramente vi assicuro Sovradimensionati In grado anche In realtà Di alzare del peso La camera dello Unique Q500 È una camera In grado di registrare In 4K Come vi dicevo Il drone ha già Qualche anno alle spalle Quindi Sostanzialmente Possiamo definire Questo drone Uno dei pionieri Dei video In 4K Su quadricotteri Praticamente Già assemblati Dalla casa madre Le plastiche Sono di buona qualità Ho appena rimosso La cover Della camera Che magari Vi faccio vedere Anche un pochettino Meglio Eccola qui La camera Ovviamente È una camera Stabilizzata Su tre assi In modo Meccanico Questo È il radiocomando Una bella bestia Che voglio accendere In questo momento Così Ve lo faccio vedere La schermata Home È una schermata Dove ci fa vedere Appunto Il loro logo Ecco avete sentito La schermata Di accesso In più il radiocomando Viene fornito Anche dalla Ionic Da questi Copri stick Che evitano Che durante L'eventuale trasporto Si vadino A danneggiare Il radiocomando In questo momento Sta già cercando Il drone Che in questo momento Non lo abbiamo acceso E quindi È una cosa Che facciamo In questo momento Il drone si accende Con un classico On off Nella parte Sotto Del drone Già che ci sono Proprio perché Lo sto guardando Da sotto Vi ricordo Che il drone Non presenta Né VPU E né Tantomeno Un sonar Di posizionamento Il che Lo dovrebbe rendere Solo nella teoria Poco Stabile In volo Invece poi Nel video Che vi farò vedere A breve Perché io Questo drone Lo utilizzo Da molti anni Il drone È assolutamente Molto stabile Anche senza L'utilizzo Appunto Di questi Di questi Metodi Di posizionamento E di volo Stazionario Un po' più moderni Di questo modello Infatti Le VPU E I sonar Sono stati Un po' Introdotti Su questi modelli Già costruiti Dalla fabbrica In fase successiva Comunque Vi dicevo Accendiamo Il drone Semplicemente Portandoci Verso L'on E chiaramente Si sono accese Anche le luci Però Lo lasciamo Fermo In modo tale Da potergli Far fare Eventuali Calibrazioni Della camera Ecco In questo momento Il drone Sta cercando Di connettersi Al wifi Generato Dal radiocomando Stesso E a breve Sul radiocomando Dovrebbe Finalmente Comparire La schermata Ecco qua Ci siamo Ci siamo E ragazzi Uno dei motivi Partiamo subito Con i motivi Per il quale Secondo me È un drone Ancora molto valido Certo Regole permettendo Ma se non avete Problemi di ingombri E non avete Problemi neanche A fare Magari Eventualmente Le varie Registrazioni Secondo me Questo è un drone Che potrebbe dare Veramente molte Soddisfazioni Un buon usato In un Diciamo Come potrebbe essere Il mio Con due batterie Si trova Tranquillamente Anche sotto I 300 euro Che alcuni Di voi Potrebbero Dire Va bene Ma io Trovo L'app San Zino Trovo Il Fimix 8 SE Un pochino Di più Però Ragazzi Qui arriva Veramente Tanta roba Il drone È Diciamo Sostanzialmente Più completo Anche perché Soprattutto Direi perché Nel Nel drone Arriva Il radiocomando Con la sua Applicazione Praticamente Già dedicata Che vi Consentirà Di accendere Fare Le varie Calibrazioni A caso E decollare E volare In tutta sicurezza Perché comunque Lui vola Comunque Sempre Con il gps E eventualmente Passa anche in automatico Nella modalità Atti Il radiocomando Vi dicevo Essere molto Completo Nella parte Sinistra Ha la rotazione Della camera E quindi Il tilt Della camera Mentre Sulla destra Ha questo Questa piccola Levetta Come vedete Già raffigurato Dalle Dalle immagini Stampate Sul radiocomando C'è la tartarughina O anche La lepre In questo modo Non aumenteremo La velocità Della camera Di rotazione Ma aumenteremo Proprio La reattività Del drone stesso E' una leva Molto comoda Molta pratica Molto sensibile Che ci aiuta In pochi In pochi istanti Veramente Questione Di mezzo Secondo Eventualmente Di ottenere Dei movimenti Del drone Più fluidi In modo Da Poter governare Il drone In ogni momento Come lo vogliamo Noi E quindi Magari In un certo senso Possiamo anche dire Di personalizzarlo Molto 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 bene Ti allora ragazzi voglio spengere momentaneamente il drone perché sta facendo il classico suono che fa la unique comunque vedete il drone eccolo qui con i suoi led posteriori ovviamente abbiamo i led bianchi o blu all'anteriore nel caso di unique e i rossi posteriori e dove c'è la batteria abbiamo un led lampeggiante di colore viola acceso il radiocomando magari un po difficile da impugnare c'è da dirlo però al centro del radiocomando abbiamo questo questo anellino per mettere una tracolla e quindi sicuramente non ci dà più fastidio più di tanto fastidio radiocomando nominato st 10 mentre sullo unique typhoon h pro era l'ST 16 vi ripeto appunto andate a vedere il video e chiaramente poi nell'applicazione integrata appunto nel radiocomando abbiamo tutta una serie di impostazioni le impostazioni video gli iso abbiamo veramente tantissime cose da fare e a tal proposito ragazzi io non so voi ma io sinceramente dopo gli ultimi flop di unique e sto parlando del mantis q e del mantis g che sto cercando di portare sul canale ma sembra difficile trovarlo perché è nato praticamente ragazzi passatemi il termine è nato sfigato perché praticamente è una sorta di rimodernamento del dell'unic mantis q che abbiamo già provato sul canale di cui chi segue il canale già sa qual erano le mie reazioni perché aveva un un gimbal praticamente non stabilizzato se non elettronicamente su nessun asse anche se le capacità di volo e tutto quanto era veramente fantastico poi la unique se n'è uscita con questa versione g con effettivamente il gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi diciamo sostanzialmente fantastico quindi benvenuta a unique con questo modello compatto il problema è che praticamente senza sensori e senza niente il prezzo d'acquisto decisamente elevato rispetto alla concorrenza ha fatto sì che è stato un flop quasi ancora prima che unique ha lanciato quel drone ma a tal proposito io spero veramente che gli unique se ne venga fuori presto con qualche modello magari richiudibile con sensori di posizionamento anticollisione chiaramente camera 4k e ragazzi spero che lo faccia perché effettivamente unique è una marca che è sul campo dei droni ormai da moltissimi anni e quando si tratta di fare le cose fatte bene effettivamente non ha nulla da invidiare ad altre case costruttici anzi direi che mi piace veramente molto detto questo vi faccio vedere qualche spezzone di come vola e poi vi lascio ad un breve video delle sue capacità vi assicuro che ancora ne ha veramente tante da dire e da fare ebbene se questo drone vi interessa vi ripeto io sinceramente penso anche di tenerlo perché a me piace molto e come drone d'appoggio quando non ho bisogno di preoccuparmi di ingolumbre e pesi mi fa veramente comodo ma se volete cercarlo magari sul mercato dell'usato cercatelo in buone condizioni magari nella valigia di cui vi parlavo poc'anzi e vi dico il contenuto in modo tale da non magari rimanere delusi quando poi tornate a casa aprite la confezione non c'è quello che ci deve essere nella confezione arriva chiaramente il drone che è un ready to fly quindi non dovete assolutamente fare nessun bin con radiocomando quindi assicuratevi che il radiocomando sia nella confezione possibilmente così come quasi ogni acquisto che avviene nell'usato dovete farvelo anche vedere e magari provate anche a testarlo la trasmittente si chiama appunto st10 lo schermo lcd è fatto apposta per poter essere visto anche sotto la luce del sole vi assicuro che gli schermi unic sono veramente fatti bene così come era quello dell'h dell'h pro abbiamo un'interfaccia usb per eventualmente aggiornare anche la trasmittente vi dicevo delle batterie lipo che si trovano nella parte posteriore del drone vediamo se ve lo faccio se riesco a farvelo vedere sarà sufficiente infatti aprire pigiando c'è anche la scritta push e estrarre la batteria da sopra sono delle batterie 3s ai polimeri di litio da 11,1 volt e vi ricordo appunto è non essere batterie ai volta poi nella confezione se ve la lasciano abbiamo anche una memoria micro sd che nel modello q500 di questo video viene inserita direttamente nella camera così come era per lo xiaomi mi drone 4k a che drone ragazzi ancora lo ricordo bene ragazzi le immagini che vi ho fatto vedere adesso sono state chiaramente registrate con questo magnifico quadricottero ma spero che vi siano piaciute che vi abbiano reso un po l'idea di come un drone già con alcuni anni alle spalle se benché appunto diciamo un po' vecchiotto se vogliamo possa comportarsi in maniera ancora egregia e fare degli ottimi video e così da ottenere grandissimi risultati ci sarebbe in realtà ancora un po' da parlare per quanto riguarda tutte le funzioni automatiche di volo ma eventualmente se avete delle domande per non dilungare un po' troppo il video vi vi chiedo di lasciarmi un commento qua sotto anzi vi chiedo anche di lasciarmi un pollice in su nel caso in cui questo video vi sia piaciuto per farmi capire che ci siete per farmi capire che questi video vi interessano perché altrimenti appunto come al solito non so se continuare a farmi ma generalmente siete sempre numerosi sono veramente contento di questo e se non siete iscritti al canale vi invito ovviamente a farlo e quindi immagino che questa per voi è la prima volta sul mio canale e quindi spero che rimarrete siete i benvenuti noi ci vediamo nei prossimi video io vi ringrazio qui dalla svezia come al solito ci vediamo al prossimo video e ciao